Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video del canale Cubase.it. Oggi parliamo della gestione dei plugin VST. Questi plugin sono delle sorte di accessori che ci permettono di modificare il suono quindi processando ad esempio con un equalizzatore, un compressore, un riverbero. Ad esempio l'utilizzo di un plugin è in questo caso in insert sulla traccia stereo out. Se noi facciamo clic in uno slot libero possiamo aggiungere i plugin che ad esempio vediamo qua in elenco. L'elenco in questo caso quello predefinito poi vedremo come personalizzarlo. Ci mostrerà diverse cartelle che andrà a suddividere il plugin per categoria o marca. All'interno della cartella troveremo poi differenti plugin in base alla tipologia. Vediamo come si fa in ogni caso a personalizzare tutte queste preferenze. Specifichiamo anche che troveremo alcuni plugin già installati dentro Cubase e altri plugin che potremo decidere di installare separatamente. Se andiamo su studio, gestione dei plugin VST, si aprirà questa schermata. Troviamo principalmente tre categorie. Effetti VST che sono quelli che possiamo caricare su una mandata o appunto in insert. VST instrument sono quelli che possiamo sfruttare con una traccia instrument, quindi riguarderà tutto il mondo della scrittura musicale e di effettistica che possiamo fare e creare attraverso il MIDI. Nella blocklist invece troveremo i plugin che non verranno utilizzati e non sono compatibili con Cubase. Se torniamo su effetti VST vediamo che troviamo l'elenco di tutto quello che è stato installato e rilevato da Cubase. Se andiamo a vedere troviamo il nome nella prima colonna, il produttore, la tipologia, troviamo poi la colonna versione VST. Possiamo notare che esiste una versione VST 3 su alcuni e altri hanno una versione VST 2. Se andiamo a vedere ci sono alcuni plugin che hanno sia la versione 3, e questo è lo stesso plugin di Spencer, la versione 3 e la versione 2. Vi consiglio di utilizzare la versione 3 se ci sono tutti e due disponibili, perché come è stato annunciato da Steinberg entro un paio d'anni dovrebbe sparire la versione VST 2. Di conseguenza rimarranno compatibili solo le versioni 3. Se avete installato tutte e due le versioni 3 e 2 possiamo fare una cosa. Andiamo sulla versione VST 2 e andando qua in basso premiamo Nascondi. Infatti vediamo che in questo caso la versione 2 viene nascosta e in modo automatico viene poi rimossa dall'elenco dei plugin. In questo modo saremo sicuri di utilizzare la versione VST 3. Poi troviamo istanze. Questa colonna ci presenta quello che riguarderebbero il numero di plugin aperti nel progetto corrente. In questo caso non c'è nessun plugin aperto, quindi sono tutti a zero. Qua sotto poi troviamo le informazioni dei plugin. Se andiamo sulla i troviamo un po' di informazioni, ad esempio il percorso ci fa quindi capire dove sono stati installati i plugin e appunto importante il nascondi. Se andiamo sull'ingranaggio invece troviamo tutti i percorsi che ci permettono di andare a rilevare i plugin che abbiamo sul computer. Un caso molto classico è quello di installare un plugin e Qubase non lo rileva. Innanzitutto l'installazione di un plugin conviene farla con Qubase chiuso. Se dopo il riavvio non viene rilevato possiamo andare su questo pulsante che scansiona tutto. Io ora non lo faccio perché ci metterebbe un po' di tempo ma lui va ad analizzare tutte queste cartelle in elenco per vedere se ci sono dei nuovi plugin da aggiungere qua in elenco. Se abbiamo installato un plugin su una cartella differente da queste qua in elenco basterà andare sul più ed aggiungere la cartella di installazione. Troviamo poi qua sulla destra predefinito che sono appunto la gestione a livello visivo e organizzativo di tutti i plugin installati. Non abbiamo specificato prima in ogni caso tutto quello che abbiamo visto prima è valido anche per i VST instrument. Andando sulla destra troviamo poi questo elenco dei plugin che è esattamente quello che abbiamo visto prima quando abbiamo aperto questo slot. Torniamo nella gestione in questo caso possiamo personalizzarla. Se andiamo sulla freccettina vediamo che io ad esempio ho creato una nuova collezione ovvero un elenco personalizzato. Si può ad esempio in questo caso sul predefinito ordinarli per categoria o per rivenditore. Infatti vediamo che presenta tutte le marche disponibili dei plugin installati. Se noi vogliamo fare una nuova collezione facciamo nuova collezione e gli diciamo ad esempio copia la collezione corrente. Questo perché se ne creiamo una vuota in questo caso ci chiede poi di mettere un nome test 1 ovviamente è completamente vuota quindi dovremo uno per uno spostare tutti i plugin e organizzarli in cartelle. Se invece facciamo nuova collezione aggiungi tutti i plugin lui ci aggiungerà come vediamo sul test 2 tutti i plugin che abbiamo qui. Quindi esattamente la stessa collezione che avevamo su predefinito ce l'ha fatta di base sul test 2. In questo caso noi possiamo modificarla cosa che prima non potevamo fare. Ad esempio max bus voglio metterlo fuori dalle cartelle. Posso facendo tasto destro ad esempio creare una nuova cartella con nuovi plugin magari dove vado a inserire quelli che ho installato più recentemente. Posso fare tutto quello che mi interessa andando a spostare le cartelle posso anche modificare e spostare alcuni plugin dentro altre cartelle. Quindi mi permette di fare tutto in modo personalizzato. Se io adesso vado a vedere vediamo che mi fa vedere l'elenco personalizzato test 2 con tutti i plugin fuori. Volendo posso anche vedere in modo differente in ogni caso andando qua in alto e richiamando la configurazione predefinito. Io ne ho una mia personalizzata che in questo caso è organizzata in questo modo qua lasciando fuori i plugin che utilizzo di più. È tutto molto personalizzabile molto comodo. Vi invito quindi a creare la vostra configurazione in modo da essere veloci nell'utilizzo e molto comodi. Spero che questo video sia stato utile e ci vediamo nel prossimo video. Ciao